Made in Italy spaziale in 3D Il 2 febbraio scorso è stato prodotto in 0G il primo oggetto tridimensionale italiano con la Portable Onboard Printer la stampante 3D progettata e realizzata nel nostro paese che ha l'obiettivo di creare pezzi di ricambio e strumenti di lavoro direttamente in orbita L'esperimento condotto sulla ISS dall'astronauta NASA Scott Kelly ha visto la produzione di un piccolo oggetto in acido polilattico una plastica biocompatibile e biodegradabile che una volta espulsa può essere assemblata per realizzare forme 3D L'intera sessione, durata circa un'ora, è stata filmata attraverso una finestra trasparente della stampante stessa consentendo il monitoraggio visivo da terra L'oggetto fabbricato in microgravità verrà comparato con un altro analogo stampato a terra per poter approfondire le diversità strutturali Portable Onboard Printer, progetto coordinato dall'ASI realizzato da Altran Italia con il supporto di Thales Alenia Space e dell'Istituto Italiano di Tecnologia rappresenta il primo passo verso l'autoproduzione di strumenti in orbita In futuro, questa tecnologia potrebbe consentire la creazione di veri e propri impianti di produzione digitale e automatizzata a bordo della ISS e di altri veicoli riducendo notevolmente il costo delle prossime missioni spaziali